Riscatto doveroso, seconda giornata della Serie C di basket, per la Castellano Udas trasferta insidiosa a Sarno, parla Raffaele Martone. Big match, domani la sesta della Serie A di calcio propone la superspida Juve Roma, da stasera il Milan cerca i tre punti con il Chievo. Addio annunciato, la Ferrari ed Alonso stanno per separarsi nel giorno delle prove ufficiali del Gran Premio del Giappone, dominate da Rosberg. Lo spagnolo ci sta pensando, Vettel vicino alla rossa?